Sono Giancarlo Benassi, ingegnere di Reggio Emilia, consulente energetico Casa Clima. Oggi ho presentato un intervento che abbiamo seguito insieme all'architetto Gabriele Ferri di Reggio Emilia, un intervento di ristrutturazione di un edificio monofamiliare degli anni 60. Ancora in corso di certificazione, ma lo stiamo portando verso la fine della certificazione in classe Casa Clima A. Cerchiamo di intervenire su tutto l'involucro in modo diligente, molto diligente e scrupoloso e abbiamo anche rinnovato l'impiantistica, l'impianto di riscaldamento e di ventilazione, più un impianto fotovoltaico. Abbiamo una serie infinita di dettagli da curare, da risolvere non solo tecnicamente sulla carta, ma poi anche in cantiere e tutto facendo quadrare i conti, quindi sono un po' le solite difficoltà, ma un po' elevate al quadrato o al cubo. Team, io ingegnere per il concetto energetico, ma insieme a un architetto con la stessa formazione, diciamo, no, Casa Clima. Questo aiuta molto a parlare un linguaggio comune, a sviluppare meglio poi le collaborazioni con gli ulteriori consulenti.